Mammutones contro oltre 4 per ultima giornata Champions Cup amatori classic, parliamo della Serie A, si gioca al verde rame, squadre che scendono in campo con obiettivi diversi, Mammutones vogliono ancora credere nel tricolore, gli oltre 4 invece sperano ancora di acciuffare la zona qualificazione diretta, subito Mammutones in vantaggio con la sassata Mancina dal limite di Federico Mentasti, di fatto è anche l'unica emozione dell'incontro nella ripresa, gli oltre 4 riacciuffano l'incontro a 10 minuti dalla fine, l'autore del gol direttamente sul calcio di rigore Giuseppe Menda, conclusione Mancina molto violenta, sia pure centrale, poi Riccardo Pia col Mancino vicinissimo, Mammutones al gol del 2-1, pressing, forcing finale della formazione di casa che però non sarà sufficiente, finale al verde rame, Mammutones 1 oltre 4-1 ed è un pareggio che lascia scontente entrambe le squadre